Io sono stato molto cattivo, cioè veramente molto cattivo, e il pensiero che per stare in cima alla montagna tu debba impallinare gli altri, ma facendo cose che mi vergogno di aver fatto, ok? A un certo punto non mi è più andato bene. E questo è un po' quello che nell'ultimo periodo della mia vita ho invece un po' smollato. Purtroppo non arrivo più primo, ma dall'altra parte non voglio più passare dei momenti della mia esistenza dove penso come fare male al prossimo, come distruggere un altro per giovarne.